E allora, fino a un certo punto però, se poi è quadrato, anzi può, no? E quindi non c'è altro da dire se non le solite cose. Cioè le cose che ci siamo già detti tempo fa, se ci pensi. Fabio dell'amico. Buonasera. Ciao Dico, com'è? È da una vita che non ti vedo qua, eh? Attenzione, attenzione. Buona vita, con te? Un mesetto. Due tre settimane, sì sì. Ciao a tutti comunque ragazzi, benvenuti a un nuovo venerdì in compagnia del pub dell'amico che fra poco cambierà tempo questo e il prossimo venerdì e ci saranno dei cambiamenti, delle trasformazioni ma leggere, anzi io li chiamo ampliamenti, aggiornamenti perché in realtà aggiungeremo delle cose che rimescoleranno un po' le carte in maniera secondo me un po' più fresca e quindi tanto poi vi aggiornerò sempre su questo canale e probabilmente vi aggiornerò già il prossimo venerdì quando vi saluterò con l'ultimo pub 1.0 passeremo direttamente al pub 2.0 con gli annunci e tutto. Comunque Nico sarà un grande protagonista di almeno un venerdì. Sì 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 ma si sa, si sa. Ok, ok, bene. So già che la gente si straccia le vesti proprio per dire no il pub è tornato per sempre. All'inizio poi glielo ho fatto capire, gli ho spiegato come funzioneranno, ho capito che è tutto esattamente alla stessa maniera, solo con una direzione un pochino più delineata. Allora poi non si fidano mai o mai, non c'è vezzio, non c'è vezzio. Te sei una persona, Nico, che si fida per esempio delle persone oppure no? Tendenzialmente sì, ma sai ma vuoi parecchio al naso, no? Se una persona non mi ispira fiducia può fare quello che vuole, io veramente sarò sempre diffidente. Non so, sono... Cioè quindi vai a pelle un pochetto. Ma parecchio a pelle, sì, all'inizio specialmente tantissimo. Che cosa hai pensato la prima volta che hai mai conosciuto a pelle? Vabbè, è quello che dico sempre a tutti quanti, no? Quando mi chiedono ma come hai conosciuto Dario, eccetera eccetera. Dico ragazzi, Dario è come lo vedete in live, cioè non è un fa il personaggio, è così. Cioè se ti dice in live che tira fuori il cazzo, si abbassa i pantaloni, lo fa per davvero, in piano centro, non è che sono racconti, leggende, è così. Sì, quindi alla fine ho rivisto quello che mi aspettavo di vedere alla fine, cioè sei te anche quello che un tempo era su YouTube e ora fai qua su Twitch. Sì, sì, beh non male, sì su Twitch poi si tende un po' tutti a esagerare con quello strappamanga, io che mando affanculo, però sì, una base... Te invece Dario sei uno che si fida di solito alle persone? Ahimè, nonostante... Cioè alla fine hai sempre fatto entrare tutti a casa tu ai tempi di YouTube, ora con lo studio guardate voi vieni via, rientra vai... Con lo studio sono un pochino più pacato, però... Sempre più geloso, sì, sì, sì. Perché c'è il masa a riprendermi spesso, però non... sì, sono come dici te. A casa tua invitavi veramente la qualunque, cioè... Sì, 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 quindi sì. Chiedi a Chang, eh ragazzi appunto, sì, sì, il problema è un po' quello, che faccio entrare anche persone come Chang, però sì ha ragione Nico, sono uno che nonostante questo carattere un pochino grossier si fida abbastanza, sì sì sì, si fida abbastanza delle persone e questo la... mi ha portato anche ultimamente insomma a prendere un po' nel culo, però... Ciao Mario, ciao Mario, ciao Mario, ciao Mario, ciao Mario, come stai Mario, grande Mario, grande Mario, tutto a posto, grande Marione, il numero uno, Mario, Mario madonna, Mario, veramente... Ehi, ciao ragazzi, sono io, Mario Storniano. Mario, ci senti? Mario, ci senti? No, noi ci sentiamo Mario. Non mi sentite? No. Come non mi sentite? Te ci senti? Ah, prova a fare così, Mario, prova a fare così, Mario, se ci senti, mi sentite? Mi sentite? Mi sent... Vaffanculo, certo che ti si sente, bravo. Ah, ma era uno scherzone. Scherzone. Una scherzone. Secondo me Mario, ci si collega a quello che si diceva io e Nico, te sei una persona che si fida un po' troppino delle altre persone, degli altri individui umani, sì o no? È vero, è vero perché ogni volta che qualcuno mi va a dire è successa questa cosa, io non ricordo di me una volta dove ho detto non mi fido. Dico sempre, davvero? E infatti, proprio per questo, quando lo dico io con questa verb, con questa invadenza e qualcuno non ci crede, dico, ma perché non ci credi? Cioè, è un po' strano. Ma scusa, ma questa roba qua ti ha portato ad avere delle delusioni grosse in amicizia, in amore, a fidarti così tanto, oppure hai avuto... Delusioni grosse e grandissime soddisfazioni, entrambe. Entrambe. Cioè, a fidarti hai anche comunque avuto dei vantaggi notevoli, quindi. Sì, perché i miei simili li ho ritrovati, perché avevamo un linguaggio comune. Ah, quindi ti sei... Ok, ok. Ti sei ritrovato con gente che si fida delle persone esattamente come te. Sì, ho ritrovato. Il mio migliore amico è esattamente... E tu lo conosci anche, l'hai visto una volta, Jeff. Praticamente siamo uno in riflesso dell'altro. Ci siamo conosciuti a 15 anni e ci siamo divertiti un macello insieme. Nico, guarda quanto è lunga la mia lingua. Fede? Boia! Boia! Ma sai fare qualche trick particolare? Solo leccare magine in maniera totalitaria. Dai, Mario, ma stai zitto! Era proprio necessario. Minchia la maglia di Robbibaggio del Bologna. Sei tifoso del Bologna? Ma è vera sta maglia? Sì, è vera, è vera. Tutta strassata... Del 97. Merda! Il Divin Codino, il giocatore più elegante del calcio italiano. Grazie, Valerio. Ha una storia un po' particolare quella maglietta. Perché è il più elegante? Lui aveva un modo di giocare che forse era meno finalizzatore e meno concreto in termini proprio realizzativi. In termini di... Sì, vogliamo fare gli auguri perché compri 55 anni Baggio. Senti, auguri Robertone. Bob. Auguri Bagione! E sti cazzi, esatto. Esatto. È un regalo del primo ministro inglese. Non scherzo. È vero. Tony Blair. Tony Blair. Che ha regalato la maglia di Baggio del 97. Per il mio compleanno nel 97. 20 giorni dopo è morta lì di Diana. E' proprio così. Mi spiega tantissimo. Mi spiega tantissimo per te, bro. Mi dispiace. Purtroppo è andato così. No, no, no. Sono al pub dell'amico. Per favore. C'è Marco che lo ha placato giusto in tempo. E no. Per favore. Per favore, ti prego. Qua si perde il lavoro. Tutti quanti si perde il lavoro, eh. Però Daniele è un po' arrabbiato con me. Ogni volta tipo... Oh, merda! L'altro giorno, mentre giocavo a Portal, mi ha fatto tipo... Sei finto, Mario. Sei finto. Eh, guarda chi c'è. Guarda chi c'è. Eccolo. Ma... Marcone! No! E che succede qua? Eccolo qua. Eccolo qua. Ciao Marco. Ciao Marco. Come stai? Minchia, è un onore averti qua. Quasi impossibile. No! È finito, Dario. Non ci posso credere. Vengo da te con una bella chiavetta. È un... Ragazzi, Marco Merrino ha finito Impatto G. E siamo tutti molto contenti di questo. Finalmente, cazzo. Finalmente. Ma se questa, la presenza di Marco qui è strana e il fatto che abbia finito il video è strana, è ancora più strana questa combo. Che c'è? Devo andare a lavarmi, è bellissimo. Sì, sì, sì. Poi la frase è proprio giusta. Comunque mi sa che tra tutti, dato che è arrivato anche Mattia, siamo veramente tutti dei deficienti per quanto riguarda il fidarsi delle persone. Perché Mattia mi ricorda una persona di manica larga per rispondere a un efemismo. E mi racconti, dato che se ne parlava Mario, quali sono state le più grandi delusioni e le tue più grandi gioie nell'esserti comportato da persona, diciamo, affettuosa nei confronti del prossimo? E la cosa più celebre è che, visto che sono così tanto espansivo, visto che molti hanno, sono giustamente un pochino sul chi va là, non mi posso fidare di te, ho paura, poi uno che viene fottuto nella vita, intendiamoci, poi ha paura di essere fottuto una seconda volta, una terza, te lo ricordi. E quindi a me è successo molto spesso che prendessi l'eredità di questi atti di altra gente e vedendomi così dicevano, vabbè, questo qua è tutto un fuocherello, ma in realtà ti sta prendendo in giro, vuole arrivare a qualcos'altro. Io l'ho vissuta sempre male. La cosa positiva è che ho trovato i miei simili, come dicevo. La cosa negativa è che molto spesso, io non dico i segreti di nessuno, ma i miei segreti li dico a molta gente e questa molta gente molto spesso ha fatto sì che... Forse hai trovato quello che funziona. Molto spesso non si sono fidati, oppure hanno detto i miei cazzi ad altri. Una cosa molto divertente, l'80% delle mie fidanzate si è messa con i miei amici dopo. No, questo è veramente tosta. 80%, io non riesco a capire se è caso o non lo so. Ma scusa, Mario, te lo faresti mai? Mettermi con un ex di un amico? Sì, sì. Allora, secondo me... No, magari metterti no, però tipo sesso occasionale dopo che ci sono lasciati o una roba del genere. Sesso occasionale no, ma c'è una piccola postilla secondo me in questa regola è che quando arriva l'amore, secondo me l'amore è superiore a una regola, per me. Per me l'amore sovrasta un po' la regola del codice amico. Se io e te siamo migliori amici. Però io mi invaghisco talmente tanto di una ragazza da esserne completamente innamorato, bisogna un attimo trovare il punto di raccordo. Se tu vieni da me e mi dici Mario io la amo, io gli do molta importanza. Questo non vuol dire che io non ci soffrirei comunque perché sono fatto un po' così e anche perché sono veramente... Questo argomento mi ha toccato in quasi tutti i miei anni di vita adolescenziale, ma comunque do molta fedeltà quando qualcuno parla d'amore. Là io per me è la prima regola. Minchia è bella pesante anche perché devi affrontare il tuo amico nel dirgli questo, è tosta, non tutti lo fanno. A me è successo, ti racconto questa, quella più eclatante è stata che mi allenavo con un tipo e questo tipo mi ha... Ci allenavamo per fare i teatranti, no? Accademie, provini, andavamo nei colli messinesi di San Rizzo, ci allenavamo prima sul fisico e poi sulla parola e a un certo punto io mi ero lasciato da poco con la mia ex storica e mi fa, mentre dava questo cambio di marcia, Sai Mario, perché parlo un po' così, sai Mario, io non mi farei mai, la chiamerò Trixie, non mi farei mai, Trixie. Cazzo il nome è, va bene. Ma che cazzo di modo è di dirlo? Cioè tu mi vuoi così bene che non ti faresti... Cioè la prima cosa che ti viene in mente per dirmi che mi vuoi bene è che non ti faresti mai la mia ex? Si è messo la mia ex. Mi ha detto, quando mi sono trasferito mi ha detto mi piacerebbe parlarti di una cosa, non è riuscito a dirmela perché un mio carissimo amico è venuto da me senza preavviso ad Agrigento dove vivevo, in totale lacrime perché non erano a fare i suoi ma non voleva lasciarmi nell'ignoranza e mi ha detto che avevano una relazione, l'uno e l'altra. Quindi alla fine non era del tutto vera questa cosa che non si sarebbe fatto Trixie. Cioè l'ha detta, però poi l'ha fatto, quindi ci pensava... Eh perché probabilmente in quel momento, ma forse in quel momento non voleva poi... Voleva già farsela comunque, questo è certo. Però magari con onestà mi aveva detto in quel momento... Eh esatto. Resisterò. E poi non ha resistito. Però... Uff. Sei qua, 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 qua. Un po' sia. Parole grosse eh Mario? Eh, colossali parole. Ciao ragazzi. Eh, due buddaciazzi come si deve. Eccoci qua. Ciao ragazzi, ciao Gianni, ciao ragazzi. Ciao Ciccio, ciao. Ciao ragazzi. Ciao Nadine. Ciao, c'è anche Nadine, la cugina di Simon. Sto imparando. L'ho conosciuta l'altra sera. E invece Victor, sono molto curioso anche della tua opinione. Eh, io purtroppo l'ho preso moralmente in quel posto veramente tante volte. Mi sono fidato tantissimo di persone che non se lo meritavano e che mi hanno fregato. Sentimentalmente non troppo. Quando ero ragazzino, però non lo conto neanche, ero al liceo. Avevo questo amico che, quando a me piaceva una ragazza, lui subito ci provava. Vabbè, ma era rotto nel culo. Ma scusa, ma era un demonio. Aveva dei problemi, ci sono ancora molto amico, ma sì, era roba da ragazzini. Però sentimentalmente sono le uniche cose. Mi è successo di fidarmi di persone che in alcuni casi volevano solo prendere visibilità. Mi è successo di vedermi con una ragazza che poi si è rivelata essersi interessata a me. È stato strano. È stato strano perché ho addirittura avuto il dubbio, perché lei diceva di non conoscermi. Io a un certo punto dopo questa storia, cioè di non conoscermi come youtuber prima, ho avuto il dubbio che se la fosse proprio calcolata. Proprio al millimetro. Abbi pazienza, ma cosa voleva sorgere dal tuo corpo? Visibilità. Cioè scopandoti? Non lo... Ma no, vabbè, anche magari, non lo so, però tipo avvicinandosi, non so se l'obiettivo fosse quello di... No, no, volevo essere il più preciso possibile. Ah sì, sì, no, comunque avvicinandosi in qualche modo, è una roba che mi deluse moltissimo, ti dico la verità. No, a me questa cosa qui non è mai capitata, devo dire la verità. E a me è capitato un paio di volte, purtroppo, però poi anche amici, che poi non si rivelavano amici e che si comportavano in una maniera... Cioè tipo, alla prima occasione ti pugnalavano alle spalle, ma con questioni di vario tipo, eh. Ma tipo era successo, era successo... Ah sì, una roba lavorativa era successo, che non c'entrava con YouTube, che un mio amico sostanzialmente, uno che si diceva mio amico, sostanzialmente aveva voluto fare questa cosa di lavoro per poi prendersi i soldi e sparire... E che ha proprio un furto al volo così. Non è proprio una... è una roba un po' particolare, c'è tipo, ha tirato in ballo delle questioni, che lui non andava bene, eccetera, alla fine la divisione non si è fatta, ma... Capitano, queste cose qua capitano. E poi amici che magari ti parlano proprio alle spalle, che è proprio una cosa tipo, che ti fa la bella faccia davanti, amici e amici, poi scopri che vanno a dire in giro cose anche falsissime. Tipo, a me era capitato un amico che diceva che io ero una persona molesta, che diceva, io? Non nel senso, no! Cioè, ho tanti rifetti, ma molesto in nessun modo, credo proprio di no. Quindi, quella è la cosa che mi fa più male. Perché a me, sinceramente, essere fregato su questioni di soldi, sì, ti girano i coglioni, però i soldi vanno e vengono. Però, quando tu credi amico a una persona, che te lo mette veramente nel culo, a livello morale, parlandoti male e gettandoti fango addosso, a me queste cose mi fanno un male incredibile. Nonostante questo, non smetto di fidarmi delle persone. Non sono diventato più schivo, però... A me è successa una cosa assurda, ora non farò nomi, però praticamente feci un video dove invitai varie persone a casa mia, sempre per riferirsi a quello che diceva Nico, che invito persone, ospiti a casa mia, ai tempi viveva ancora dai miei, e ho invitato uno youtuber che non è mai approvato su Twitch, e poi scoprì giorni dopo che mi aveva rubato sette, otto Funko Pop d'oro. e quelle rarissime da collezione. Ma come è rubato? Sì, e quella persona era Mati Oschi. Non credo, non penso. Non lo giuro. Non credo proprio, però anzi. Guardate, cosa sono i Franco Pop? I Franco Pop? Vabbè, dai Mario, ma fai ca... Hai detto Franco Pop invece di Franco? No, ho detto Funko Pop. Funko. Funko. Perdonami, come, che cosa sono? Come cosa sono Mario? Sono quelle stasera, i personaggi che fanno. Mario, ma lo sa anche il maiale, che cazzo è? Giampi, parlo con te, sai cosa sono i Funko Pop? Sì, sì. Però Piero lo sa, De, son Tozio nel lui. Tutti lo sapete? Però poi te ne meriti proprio. Mario, fammi un'imitazione di Mario Draghi al volo, di quelle che sai farete divertentissime. Non ho mai visto in faccia Mario Draghi, se vuoi faccio questa. Cos'è questo? Assegno. Mario, che cos'è questo? Un assegno. Eh? No, perché nelle banconote c'è la sua firma, quindi le firmava... Mamma mia, Mario, ma fai affare in cura. Ragazzi! Grazie a curi, saluto. Un'armina, un'armina! Ma non fare il capriola a terra, che c'è la merda, che schifo, è uno squat a casa vostra. Ma scusa, ma anche Ciccio, Gian, eccetera, sono nella stessa casa? Sì, no, Gian no, Ciccio sì, Ciccio sì, ma se praticamente c'è un angolino Ciccio diciamo ancora semiequilibrato, tutto il resto è nella merda, di modo che si appiccicano le suole e di obonare pavimenti. No, che schifo, no? No, no, è sì. Dove prendono dei fili e proprio attaccano... No, no, sì, io non capisco Ciccio perché avete tutti i fili a vista appicciati con lo scotch al muro. Mi dovete spiegare questo. Perché sono strapericolosi, un giorno io mentre facevo la doccia, non so come, lanciando... Non è un motivo, perché ce l'avete appesi con lo scotch al muro? Perché sono pericolosi, ma dovrebbe essere un detenente. E' la spiegazione dello scotch, perché c'è sempre senza scotch. Lanciando la maglietta e toccando i fili è saltata... Eh, guarda un po', che strano. Quindi ho detto, Marco, siccome qua c'è il rischio di morte, attacchiamo il lavoro con lo scotch. Ah. Ma non si potevano direttamente murare come in tutte le case del mondo? Ma in quella casa, ma chi si prende la responsabilità di murare i fili? Eh, tosta, lo so. Ma basta chiamare un'azienda che lo fa per voi. Non siamo capaci. Ma mi spieghi, Mario, perché... Noi siamo capaci di vivere nella volgia. Ma perché chiami casa... Cioè, camera tua, camera tua quando è il salotto della casa? Questo io devo capire. Perché ci dormo? Ma non è camera tua, è un salotto dove t'hanno buttato dentro, come messicani. Il salotto di Mario. Il più grande salotto d'Italia. Eh, sì, che cazzo è? Maravigliere. Polizzo Costanza, eh. Polizzo Costanza, eh. Il salotto di Mario, il live ogni giorno su Twitch. Una roba mai vista in un salotto. Spammer. La differenza tra un salotto e una camera è che la camera ha una porta. Giusto? Sì. Quello ha un antro. Cioè, ha un antro. Non è venire da questo. Eh, dimmi. Marco. Mario, puoi farci vedere la porta della tua camera? Però un arco. Eh, dimmi. Sì, anche. Non ci sono... Non ci sono porte. Dai, facci vedere un attimo. Ma poi io sono stato nel bagno. Cioè, un costante... Bravo, facci vedere. Di merda. No. Sì, sempre, sempre puzzi di merda. Con pezzi attaccati dentro al vato. Sì, sì, sì. Guarda che bello. Guarda il suo armadio. Guarda il suo armadio qual è. Quella lì, quella che vedete spuntare, è una spada che si è coltaccata in tre scaffali diversi che sei riuscito a piantare sempre più giù. È una situazione un po' precaria, ma posso spiegare? Nel senso, io dovevo andare nella camera di Marco, ma Marco poi è rimasto e io l'ho presa in culo, come si suol dire. Mario, ecco, te che fai tanto il filosofo, Nietzsche, me lo butto nel giro. Non faccio nessuna... Vabbè, quali sono le cose che senza senso nella vita di tutti i giorni che ti fanno più ridere in assoluto? Vai. Le cose senza senso che mi fanno più ridere in assoluto? Minchia, allora, ti dico questo, io rido molto spesso, ma veramente roba che tipo mi guardano male in casa perché mi mette a ridere, Ciccio potrà confermare. Anche se Ciccio è molto comprensivo, ogni volta, anche se non capisce il motivo per cui rido, si gira verso di me, fa tipo... Si tratta come un demente, praticamente. Lui fa sempre così, lui si mette, se vede qualcuno ridere, non chiede il motivo, si mette a ridere pure lui, fa gruppo. Fa gruppo. Gli altri mi dicono... Gli altri mi dicono... È la ragazza di Victor, stai tranquillo, Mario. Non quando noi vanno in casa. No, è un oggetto esterno, quindi ho pittatore. No, no, è tutto a posto, è tutto a posto, Mario. Però non mi ricordo una volta, una volta dove... di una cosa che mi fa ridere, io faccio video... Ma non è possibile. Dove non hanno senso, a me fa ridere il non capire niente, quindi qualsiasi cosa non abbia senso. Tipo Lillo e Greg, quindi ti piacciono? Lillo e Greg, Lundini... Lundini mi piaceva la prima stagione. Eccolo, vai, ecco... Poi vorrei visto prima... Guarda, 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 ora fa ridere, eccetera. Guarda, 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 ti ha indovinato, ti ha venduto, ti ha venduto. Poi è famoso, veduto. Ma vai a fare in culo, Mario, Non ha detto niente, Dario! Non gli devo nemmeno modo di spiegarsi. Ha detto niente, ma ha detto tutto. Scusami, Gianna, hai ragione, scusami, ho esagerato. Prego, Mario. Adesso Mario... La prima stagione era molto brillante, gli ospiti erano ok, poi, visto che nella seconda stagione era la stessa cosa, ma lo studio è cambiato, mi sono sentito un pochino, tipo, ma che succede? Ma cosa c'entra? Non lo so, non mi è piaciuto, mi è sembrato tipo che avesse scaricato la cartuccia, che in questo format fosse bello all'inizio. Gian, ora quello che ti ho detto prima, ora lo posso dire. Ecco, infatti mi sembrava che lo potessi dire. Oh Mario, ma che cazzo dice? La stessa osa, è stato gansissimo. La seconda? Non mi è piaciuta la seconda. Secondo me è stata anche meglio perché gli hanno dato più budget per fare le cose. Anche lei addirittura, guarda, c'è uno stronzo. Mi spieghi nel dettaglio, sì sì sì, mi spieghi nel dettaglio cosa non ti è piaciuto, vai. Cosa non mi è piaciuto. Sì, nel dettaglio, è vero. Aver visto la stessa cosa, però visto che mi piaceva di più il luogo dove si faceva prima e il secondo mi è sembrato un po' meno incollato al contesto, l'ubicazione. Mario, che succede? Stavo annuendo. Allora Mario, scusa, qual è una cosa che è andata avanti nel tempo durante le stagioni o dei sequel dei film e che ti ha soddisfatto sempre? I want to meet your mother. Eccoci la cazzata, vai, è arrivata. Vabbè, il fuoco d'artificio. Ale, vai. Breaking Bad, Breaking Bad, let's go. L'attacco dei giganti. E che c'è qua? Sono il gigante martello, adesso te lo vedrai con me. Arrivo Dario, vieni, combattiamo. e Vittor, ecco, te che sei un grande esperto appassionato perché sennò poi mi fai il film. Film, animazione, serialità, eccetera. C'è una cosa che non ti ha mai deluso, mai. Che non mi ha mai deluso? Breaking Bad? Ok. Perché la pernacchia? Come ti permetti? Ti dico Better Console anche, che secondo me Better Console è meglio di Breaking Bad. Sì, secondo me sì. Perfino. Sì, sì. Beh, ma è normale perché è meglio perché hanno alzato il tiro, sapevano su cosa potevano puntare di più. Ma che cazzo è l'ese? Ma chi è questo? È la realtà. Comunque, t'ha scamato subito, Ciccio, non è che se ti sposti si vede la gamba, il braccio e fai un'altra voce. No, allora non sei. Mi stavo stirando. Mi stavo stirando. Ah, ti stavi stirando. Scusa, perché non pensavo fossi te proprio a parlare, capito, in questo momento. Ma poi non mi prometterei mai contro Victor, non lo farei mai. grazie a Mario Mossi e a Cameron per l'abbonamento. Questo però era gratuito, eh? Ragazzi, dovete stare calmi. Oggi state facendo un po' i bikini, eh? Chi è? Ciccio, che si è spostato dal punto camera e ha fatto una perda. Sono qua, sono qua, sono qua, sono qua. Grazie Luca. Però Dario, minchia, posso prendere una bocca d'aria? Posso allontanare un secondino? No. E Nico, invece? Cosa? Una cosa che, non... Penso Bojack Horseman. Vai, Ciccio, pareri? Sentiamo. Bojack Horseman. Bojack Horseman, cosa hai detto? No, no. Ti piace? No, no, non ho mai visto Bojack Horseman. Ah, ok, ok. Se non è Bojack, è stato bello dalla seconda stagione in poi. Ha stato un follower. Al contrario di Lundini, quindi? Sì, è stato un po' il contrario. Un po' è bestemmio in tutte le lingue del mondo. Gli ospiti non si sentivano così a strancio come nella prima stagione. E a me mi ha denuto da... una riempire proprio. E mi ha vignato i Manicchi. E a me Manic, quella cosa dei Manicchi pronto? No. Non mi ha deno giù. Tutto va bene, ma quello no. Non toccare i Manicchi. I Manicchi sono rock. Ciccio non si è capito. Ma chi è stato? Ciccio, hai visto chi è stato? Ciccio, ma poi ho capito, no? Mi scuso. Ogni volta che mi stiro sempre fatto apposta. Vabbè, mi mettono un altro. Mario, è successo un altro. C'è stata un'interferenza. Ma perché devi fare la posa? La posa che guardi l'attacco dei giganti in giapponese. Sa che io, sa che io sono Mario. Io amo l'attacco dei giganti. Ho capito, ma non romperci coglioni, va bene anche doppiato, è muto. È più bello l'urlo italiano rispetto a quello giapponese. Marione? Dario, a me piace in giapponese, bro. Vabbè, dimmi, dimmi Ciccio, scusami. È vero, sono molto pro Mario, anche perché non so se hai visto Hunter Hunter e Redoppiato in italiano, non lo so se hai visto. Aiaiaiaiaiaiaiaiaio. però quelli sono casi eccezionali. Ma perché fa male? Quelli sono casi eccezionali. Killua, sai che Killua è un assassino a sangue freddo? Killua sta voce, papà, hai ragione, devo forse sfidare il mio ego. E com'è invece in Giappone? Vabbè, ora non penso, scopri, lo buttino in culo. Ma che scopri? Quella era la sensazione di avere un coltello piantato in petto. E la voce in giapponese invece com'è, Ciccio? Oh, so che te. Oh, che intendenta io. Oh, stanno che? Sono toride. Oh, è vero però, eh. Bravo, bravo. Bravissimo. Il bambino di 9 anni. Grazie, ragazzi. Ci sta. Sì, sì, ma poi Killua nel doppiato in giapponese fa sempre quella cosa tipo che fice quelle cose tipo... Sì. Ah! Ah! Che è un delfino? E quando dicono sì... Ah, ho capito in quel senso. E poi è un po' strana come cosa. Perché? Strana? Tu perché? Stanno dire... Vuol dire sì. Ma poi lo fanno con una certa... Lo evidenziano. Ah! Sembra il U di Minecraft ma con la E. Ah! Così la U. Ah, U! 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 Ciccio, qual è il suono di videogiochi che preferisci in assoluto? Io so farei bene alcune cose di Minecraft. Ti faccio alcune. Lui che si fa male. U! Quando... Ah, lo zombie. Bre... Su quattro? Già, già. E' proprio... Poi quando... Sì. Poi quando devi... Prendere la terra. Ciccio, 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 ciccio. Ciccio, ciccio. Tipo il suono di... Il suono di uno che entra in un dungeon. In un RPG. Lo sai fare, dai. io faccio a volte quando sono a casa lo sa pure Mario quando trovo il testo faccio hai trovato dentifricio più è importante la scoperta più urla minchia cellulare di Marco Merrino quindi se tu trovassi non lo so una cosa che cercavi da una settimana finalmente la trovi quale sarebbe così per curiosità ci sta ci sta però ci sta non so far avete mai giocato a One Rock con la il mio One Rock si dio buono idea ho che so fare quando facevi la capriola è la capriola è vero scusami però ciccio se posso permettermi ti rimangono impressi delle robe cioè totalmente bypassabili ora vabbè lo zombie Minecraft è iconico però ora la capriola di One Rock mi sembra già un pochino più complessa aspetta ciao ciao vocalita si parlava di attaccontare oddio oddio una donna che legge manga e guarda l'animo oddio oddio mia dea mia dea vocalita oddio non esiste nessuno fa 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 scusate non era una piccola gang una piccola gang avete finito di fare baca basta fare baca no non iniziare così vocalita perché partiamo veramente basta fare baca grazie a tra muse culo a simosis che a nartan scusami Dario se ti interrompo posso fare anche quando su naruto ninja storm ti sceglivo un personaggio vai è molto specifico bravo perché te lo fai più mozzato non eccedi è molto interessante quello del teatro kabuki pure Mario oh mamma mia io ci sono stato a uno spettacolo perfetto io ci sono stato a uno spettacolo di teatro kabuki e com'è è interessante non so se consigliarlo o meno però è un po' strano anche me che costicchia cioè almeno lo spettacolo che ho visto io era costicchiava e urlano fanno cose abbastanza particolari cos'è quello eccolo là ma dai ma la copia pezzotta voglia ogni volta che ero all'ospedale vedevo quelle persone dai vendo queste ma ciccio posso dire perché fare le copertine così ascoltate ha suonato un po' strano diciamo se uno straniero viene a lavorare qua in Italia e lo fa in modo giusto io devo comunque un po' marcare quello che è il tuo accento ossia quello di uno straniero che cerca di imparare ma io non non approfondirei non mi addentrerei questo era bellissimo era una merda una merda rara era bellissimo era bello c'evi sette anni non capivi una sega mangiavi ancora di buono plasma con la nutella che sono buonissimi per carità dario ma sei cazzato così ciccio non è che sei mai visto vabbè non è che sei mai visto cappare nel garage tutte le sigarette elettroniche che vi siete fumati quella sera sono diverse sul twitch chiaramente comunque è meglio questo che sono entrato allora io sono andato a trovare raccontiamo questo aneddoto con calma però omettendo dei particolari sono andato a vedere sono andato a conoscere no conoscere no però sono andato a trovare ciccio michelle e la cugina di simon e poi chi c'era nadine e no c'era anche pinguz entro e diciamo arriva verso di me questa grande nebbia questa grande nebbia lombarda sei un grande amante di dark souls ciao michelle ciao ciao no sto parlando no io 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 non mazzardere michelle michelle io non avrei mai 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 mi permetterei di dire una cosa del genere assolutamente ho detto semplicemente ho detto semplicemente che il mood è diverso e quando ho visto ciccio così rilassato con gli occhini che sembrava romano prodi che mi guardava così è diverso dal pub dove verci si scazza un po' ci si piglia un po' più per il culo lì era un clima più rilassato più disteso disteso anche sì forse è la nebbia che ha cercato che ha attutito Mario sai cosa c'è così tanta nebbia e quindi che praticamente il cervello pare che ti fredde sì è bravo è quello è quello nella nebbia devi stringere un po' gli occhi per riuscire a esatto per vedere poi mi è piaciuto tantissimo il caffè che mi ha fatto michelle è stato un caffè me lo ricorderò per tutta la vita possiamo dire tranquillamente era un ottimo caffè per questo te lo ricorderai vero perfetto mi ha fatto arrivare in Toscana sveglio pronto era così era super super ristretto abbiamo messo troppo poca acqua e non saliva infatti ci ho messo una vita poi è salito tanto così proprio un sorsino no no comunque michelle incredibili ragazzi poi più che altro più che altro Ciccio mi ha fatto conoscere un gioco che voglio consigliare alla chat divertentissimo ma si chiama l'enigmista bellissimo che bello sì 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 bellissimo a un certo punto io ho vinto io ho vinto ti ricordi belli Dario affanculo ogni volta sei sempre tu che non ti faci niente critichi gli altri però gli altri non criticano te perché pensano sono d'accordo con te Dario io sono d'accordo io sono d'accordo con Ciccio invece incredibile e comunque anche perché la maggior parte delle cose mi fanno cacare comunque il gioco è questo a un certo punto Ciccio si alza nel mezzo a questo grande turbinio di insomma di eforia si alza e fa e adesso l'enigmista e va veramente così ragazzi chiudete gli occhi per favore chiudete tutti gli occhi esatto chiudete gli occhi allora tutti come dice Michelle chiudiamo gli occhi comandante Ciccio e a un certo punto c'è Ciccio che investe di enigmista che deve toccare una persona è il master è il master scusami è un casino ok ciao Hontas ciao 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 allora in the ground c'è anche un freeze drumox con la propick non sono sicuro di volerlo aggiungere però va bene comunque bentornata Alessia ciao ciao a tutti ciao a tutti Mario aspetta Mario smed ho detto bentornata Alessia porca miseria non ho detto niente di che adesso che ti sovvicino non mi dici niente Mario non ho ancora finito di spiegare ma fanculo cioè non lo so veramente ma fanculo voi vabbè ragazzi ma veramente ingestibili comunque devo finire di spiegare questo fantastico gioco a un certo punto Ciccio diventa appunto il master non si sa bene di cosa di questa situazione e quello che tocca diventa l'enigmista bisogna iniziare a bleffare per cercare di trovare l'enigmista il problema di questo gioco secondo me è uno è che non cioè non ci sono indizi secondo me per di solito come si fa se io sono il master e ci conosciamo da tanto tu potresti dire conoscendo Ciccio potrebbe scegliere quella persona ma poi magari Ciccio vuol dire Ciccio ma è impossibile questa cosa è un gioco psicologico è tutta psicologia sì però poi quando vi conoscete troppo con quelle persone che li puoi fottere li puoi fottere ma a me io dopo due partite era sempre la stessa cosa sei te l'enigmista no allora sei te no basta questa è l'unica cosa che puoi fare ecco le partite di Dario Dario tu che ne pensi secondo me è Michelle e poi sta fermando di nuovo ma tutti fanno così Ciccio tutti hanno fatto esattamente quello che ho fatto io perché non c'è altro modo per capirlo terza partita Dario fa questo ragazzi mi metto un secondo qua nel divano ragazzi bastano due minuti esatto non è vero Ciccio ho provato a trovare dei metodi per esempio a un certo punto mi sei passato accanto e stavi dicendo allora adesso selezionerò l'enigmista e allora io avevo capito che l'avevi toccato in quel momento e l'ho fatta apposta l'ho fatta apposta ah era una strategia certo infatti non era manco una tinta niente che è morta e non era manco lei vedi i mind gaming questo è il gioco ma bisogna fare domande sì è un po' a caso però se prende bene diventa bello la mia esperienza è stata molto bella avrà preso bene perché avrai fatto un canarozzo da qui a Pandoiano dici credo e ti avrà preso bene piglia bene anche un carcio nel culo no no ma io Ciccio dico la mia opinione ma sono legittimato a dirle però ciao ben tornata ciao ciao non ti si sente te Ciccio comunque di questi giochi ne inventi un boato tantissimi qual è quello quello più riuscito ma in realtà in realtà non li creo io il mio più riuscito è fantasia ebbè quello sì fantasia wow qual è il mio più riuscito cioè l'altra volta non ho fatto la storia a Mario che era incredibile tu penso prigione.com no la grande donna ragazzi sareste ucciti pazzi voi fate così poi è un racconto improvvisato dove praticamente giochi di ruolo ragazzi dimmi io vi saluto ciao Ciccio ti abbraccio è stato è stato un piacere brevemente ok sono giusti uno per ciascuno grazie Ciccio grazie di cuore insomma Alessia come stai da tanto che non ti si vede come va come va come va non la conoscevi non la conoscevi fino a cinque secondi fa bentornata ad Alessia allora cosa fa cosa fa allora Mario aspetta un attimo se ci farei delle domande io ad Alessia no prima te le faccio una io cosa fa Alessia su Twitch forza allora lei fa parte dei fanatic ok basta lo sai perfetto ho chiesto ai ragazzi della mia chat ho chiesto ai ragazzi ho chiesto ai ragazzi ecco 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 perché il beccacino alzando la crista esatto esatto ma sei messinese tu io sì si tornano tutte le cose di dove? tipo giostra? no eh non vuoi dire la zona chi fa i cazzi tua? madonna ma tanto sta a Milano ha scelto di andare a Milano pure io sono a Milano con a Sean tu come ti chiami? io sono Mario Mario è una mona ma poi è sganzata tra l'altro con un mio fratello eh tu sei una coltivazione di broccoli Mario Ramona? veramente ma poi puzzano le palle bellissimo nome Ramona dai Mario dai Mario grazie ma posso fare fare amicizia con una persona? non stai facendo amicizia che appena entra una figa inizia ad alzare il crestino anche io sono messinese una persona una persona non è vero non è mai te lo ricordi data quando è entrato per la prima volta? cosa? non ti ho detto niente a Diego Diego che cosa dici no? ti ho detto che mi piaci su internet che ti fino a Lazio che lo so però non è che ne ha chiesto l'indirizzo il codice d'avviamento postale cioè abbi pazienza ti hai chiesto di che zona sono? vabbè perché di Messina pure lui ha detto ma non lo giustificare te ma che fai? grazie grazie Ramona grazie tra Messinesi ci si capisce sei una ginestra un fiore nel deserto allora che cosa volevi dire? te Mario ne hai mai inventati dei giochi d'infanzia giochi d'infanzia? sì giochi che diventavano di sarno a pianto per far divertire i tuoi amici che chiaramente non si divertivano io ce n'ho uno era tremendo vai vai ah vado io? ti racconto? si chiamava Golasso Golasso? sì 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 era un gioco dove praticamente si usava un bastone di plastica ricavato da un forcone di Halloween di plastica rosso il forcone del diavolo quindi rosso come i capelli di Ramona oppure più intensi o meno intensi grazie a Bojack Paradise se non è più rosso Mario mi fai schifo mi fai schifo ovviamente schifo al cazzo con la similitudine con i capelli di una nostra ospite a parte che è una mia ospite ma chiaramente però il padre insomma di te non più dicevo ed era un un gioco dove te dovevi afferrare col tridente col bastone di plastica questo tridente e tirarlo all'avversario che lo doveva parare con un altro bastone di plastica quindi dovevi cercare di farlo ruotare all'interno del bastone di plastica per non fare gol e si chiamava Golasso ci ho giocato con Martinaro due partite e poi non è più venuto a casa mia perché chiaramente è stata una tristezza unica io cercavo di farmi gli amici così ma non andava molto bene grazie a Dodos24 io non ce l'avevo quindi giocavo solo con i miei amici immaginari e il po' del ragazzo c'ha vedi gli amici ok no non c'hanno i miei amici immaginari che è successo? ho capito perché non posso bannare questo utente che è arrivato adesso e ho capito perché Diego è stato switchato questo non è un utente che viene dalla community di Mario questo è Panetti eh Simone Simone ciao da come stai? bene bene tu? sto bene come mai questa scelta di Rezirlo tra l'altro ho abbandonato la mia forma umana quando tornerà questa forma umana che io sinceramente la apprezzo più di questa di questa ragazza anime ho deciso di di trascendere ho smesso di di pensare al materiale come ho sentito questo metaverse mi sono affascinato trovo inutile l'utilizzo della moneta cartace non so voglio vivere così la moneta cartace quindi tutte le indagini che hai fatto sulle vtuber di cui mi parlavi ieri notte era per fare questo? no 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 assolutamente per puro interesse personale e piacere cos'è la scritta che è apparsa di sotto? ignorala scusami no no la vorrei vorrei capire che cos'è aspetta un secondo no ma puoi cambiare outfit? puoi fare vedere i piedi? no me li fai vedere? no posso farlo non è possibile che tu non lo possa fare guarda se vuoi se vuoi vuoi che cambia outfit? si ok torno subito in un secondo eh si eh però non è che hai cambiato outfit hai cambiato personaggio direttamente ecco eh caparrucca e il resto hai bevuto? hai bevuto? c'è la voce strascicata aspetta cambio outfit un attimo questo non mi sento a mio agio non mi sento me stesso così come ti senti te stesso? mi fai vedere come ecco mi prendi il personaggio che più ti rappresenta al momento hai voluto hai voluto scatenare l'inferno e il mio compito sta andando a fuoco no 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 non sapevo che chiudi il programma mi hai cancellato dall'internet no no come? mi hai cancellato dall'internet hai cancellato la mia identità virtuale no dai tornerai io dico ma perché non riesco a bannarlo questo che bug c'è? mi sono cacato addosso grazie a me cioè sono nel metaverse non puoi bannare chi è nel metaverse no semplicemente una volta mi sono collegato da casa tua non mi sono mai sloggato accidenti a me adesso hai accesso a questo canale no 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 che poi non hai accesso a questa stanza hai accesso al mio streamyard cioè quindi puoi fare tutto io sono Dario Moccia magari qua dentro cosa c'è questo vuol dire? vorrebbe dire che saresti dentro di me grazie al freddo vabbè questa cosa è un po' strana allora vediamo un po' mi sento a mio agio eccolo qua se lo riechi crasha mi incazza è pesante vabbè aspetta raggiungo gli altri intanto che ti rende mi cambio e torno vai vai eccoci ragazzi scusate devo parlare un attimo intendi con quella cosa del dentro di me cioè non ho capito quella cosa allora io non ho ancora sperimentato la bisessualità cioè non ho ancora avuto un rapporto omosessuale ma se dovessi scegliere e mi dicessero guarda Dario domani hai la possibilità di trombare Simone io prenderei adesso la macchina stopperei la live e mi assenterei per vivere una notte di sesso anzi più notti di sesso con Simone fino a esalare il mio ultimo respiro vi cambiereste di ruolo sarebbe una cosa variabile tutto io faccio tutto Dario scusami hanno mai scritto una fanfiction su di te con qualcun altro per caso no grazie a voi non cercare non importa è una fanfiction fanfiction omosessuale esatto mi dico non chat con io Tobi però c'è sì tempo fa ma mi sa che ce ne sono di nuove comunque me la linkate no no non importa ma guarda che io penso che ci siano un po' su tutte è una roba pazzesca è pieno ah ho capito qual è sì ma poi basta cercare nel caso non è che te la devono linkare scusa ma che lì basta che faccio prima scusatemi ok non lo chiedo più ma che stai a fare ma che stai a fare ricordate che a te o Diego è due anni continua a farti ridere questa Tirendion è grave ma è potentissimo questo c'è almeno il più potente di tutti quelli che ho mai sentito madonna che madonna Simone ma è un mostro che cosa è di così ci credo a mio agio ci credo ci metteva un botto a renderizzare grazie doc per il scelto è praticamente un culo ma poi Simone dai mi bannano per una roba del genere dai ma a me piace la faccia tonica no ti prego rimettilo mettila più caruccia dove sei finita Elena Vochelita dov'è Vochelita è qua ho avuto una paura un mancamento finimi la mano sono qua sono qua ma nel quadro di euro c'è un pepe si è Bokunopico versione bepe no ti prego Bokunopico no Cristo li hai visti tutti e tre anche tu no no io ho una sanità mentale che mi piace mantenere quindi no ok però fidati hai un'esperienza si immagine nuova waifu bella ciao Agnese oddio questa sembra quella di tutti gli occhi ciao Simone Simone non mi stai mettendo cioè allora Agnese 2D con la tua voce mi sta veramente mettendo in difficoltà posso dire non è non è Agnese 2D 2D poi puoi cambiarti di nuovo per favore vorrei tornare a casa sembra Monica di tutti i occhi Simone power vorrei tornare a casa adesso sono incastrato nella scrivania questo è un posto questo fa paura questa ti viene a cercare la notte sembra uno squalo martello c'è gli occhi diobono hai latide che problema vogelita te vabbè non te la faccio nemmeno questa domanda no non ha senso mai la faccio a Alessia che è una persona invece più quadrata più pacata Alessia te hai mai la risposta no ci sono già la risposta è sì è sì anzi non è sì è assolutamente sì quindi ok ok vabbè facciamo una cosa la faccio a Alessia se la risposta è diversa da sì esatto ve lo dici Alessia ti abbiamo avuto lo scribizzo la perversione di un madonna che cosa inquietantissima la bambola che ha scrittato questo chi tira fuori anche la lingua Simone ma le braccia le puoi usare Simone fagli fare il gesto della fagli fare il gesto del no Simone 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 no meglio Simone sembra che stia bevendo l'acqua non ha senso e sta simulando un pompino con la sbarca dicevo è arte è arte ragazzi è arte ovviamente virtuale se Alessia hai mai avuto la perversione per un avatar 3D la risposta qual era Magalita ah ecco allora mi ha parlato l'altra volta no gli avatar 3D no te mi hai detto personaggi di finzione sì ecco non cercare di fregarmi non lo so no non credo ah ok ma perché ci sono avatar 3D famosi vabbè ma non puoi Simo non puoi muovere le braccia puoi muovere solo il torso Simo fa la hangout prego le braccia pesanti mamma mia è troppo importante ma avatar maschi ce l'hai Simo ma sbando dai c'è quasi fiero di questa cosa se questo è il metaverso preferisco rimanere qui ma cos'è ma ti prego no ah questo è l'avatar maschile Simone non ti prego ma che muove la lingua che lingua ma è coso è come si chiama ma che ma ma è come si chiama broderone no non mi sembra il broderone se no Kirio sembra Sergio Origlia sì sì sembra Sergio Origlia scusa voglio dire che avatar l'avatar che avevi in mente no quando ti ho detto sulle fantasie con gli avatar qual era ora come ora quello di Simone questo qua ti piace questo qua invece un sacco però cioè non lo so è espressivo così non lo so secondo me può regare emozioni quella lunga veramente vero poi guarda lo sguardo cioè bellissimo puoi uscire un attimo la lingua no puoi uscire la lingua ma scusa abbi pazienza quindi anche se un uomo magari è bruttino ti piace vi attira per la lingua no 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 a me deve piacere il complesso certo certo così un po' che carina questa è carina questa mi piace è un po' mario era il tuo momento per dire io ho una lingua lunghissima ma devi farla vedere mario merda merda che cazzo era distratto ma non ditero davanti a tutti posso essere la vostra assistente virtuale però Simone il problema secondo me qua è la voce perché è veramente troppo diverso da quello che metti qual è il problema anche così no eh vabbè questo è Rocco Tani che cazzo è è vero Rocco Tani si Arara vuoi fare facciamo delle prove già qualcosa ci stiamo arrivando ci stiamo avvicinando questo però un po' strano e oggettivamente e ma scusate esiste qualche aveva che finge di essere una ragazza aspetta facciamo dialogare l'intelligenza artificiale con Victor un attimino vediamo che cosa si devono dire dimmi come ti chiami tra l'altro Simone no un po' strana come fine subito fine dell'esperimento fine dell'esperimento vai non creendo dai no no Simone no 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 grazie ma perché tutti sti avatar quella feature l'interno fuori la lingua io non lo so no no ma penso che segua la lingua di Simone l'avatar sì lo so però devi programmare come cosa c'è di tutte le cose che puoi programmare proprio la lingua eh chissà perché eh ma chissà ma questo muove le braccia sì Simone ti prego di fare così a lingua di fuori ti prego di fare una kagao ti supplico una kagao no una kagao eh ma non ribalta gli occhi non ribalta gli occhi c'è un grande dibattito sulla appunto voglio dire te ne volevo parlare con te no dato che sei una grande amante anch'io effettivamente lo so e ma il tuo ragazzo piace oppure lo cringia perché molti cringiano non credo che sappiano anche che cosa sia ma c'è un momento specifico in cui va fatto è un orgasmo in teoria diciamo è la faccia del massimo godimento cioè del picco orgasmico ok occhi ribaltati e lingue di fuori quando ci sono anche dei materiali organici anche meglio fammi vedere un po' ah ok sì certo che si può fare ah ok dall'undertaker non proprio però eh undertaker quindi undertaker è il padre degli aigau esatto sì vittor non era necessario stai a terra da tutti vogelita esatto è quello che fai adesso ti ho visto muovere la bocca ho avuto un attimo di terrore ma cosa non era necessario non l'ho capito sì però molti cringiano sai per questa roba qui mattia molti eh assolutamente io no però nemmeno io ognuno può fare io sono un fan voglio studiare Diego non ce lo fanno a parte che io allora aspetta io quando sto per venire chiudo gli occhi quindi non vedo un cazzo no dai la cosa più bella vedere quando vieni io so che vabbè che cazzo sei un piccato scusami vabbè stai un po' in te cioè non ho mai visto in tail non è stato fuori un po' in tail no sono un po' attirato no io sono così vabbè ma un maniaco sì sì io poi faccio paura sì 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 perché così fa ride ma in quel contesto è una faccia serissima cioè fa ha paura cioè che cos'è come si fa qua moci è quello moci questo è un fanboy però eh palesemente ma lo sai ma no ma che collo ha ma questo è una giraffa è sabato 15 anni fa questo che è eccomi questo muove le braccia guarda che sta a fa' questo ragazzi guarda come accontenta eccomi qua comunque voglio ragazzi dare il benvenuto voglio dare il benvenuto perché non c'è mai stata qui Fenrir grazie mille di essere qui con noi veramente e assomiglia un botto invece a partire ciao Fenrir ciao Fenrir va paura vuol dire che questo è approvato ma nasce te ecco per esempio sei una fan dell'Aigao Peckham per esempio no è un fan dell'Aigao o meno sì sì è fan non cringe quel porcore sì Peckham è il suo fidanzato no credo Beckham no sono un po' fidanzata con Beckham Beckham a te Hontas l'hanno mai chiesta? hai detto ragazzi te l'hanno mai chiesta? l'Aigao? no mi immaginavo ma perché si richiede non è una cosa che viene spettata esatto non è una cosa spontaneissima oppure lo fai capire lo fai capire eh però si accelta ancora di più quella quella espressione sì non è una cosa che viene spontanea o far cioè è una roba costruitissima quindi da sai Victor cosa mi piace quando anche fanno il gesto della vittoria ovviamente certo ovviamente è tutto accompagnato da del materiale esterno oh verità è buona te è arrabbiata lei questa qua è rincazzata chi? chi è arrabbiata? eh la venuzza si trasforma? diventa qualcosa? in questa casa diventa sì lei è un po' zundere sì vabbè però in realtà l'espressione serena di zundere c'è solo le vene la vena caricaturale sulla fronte tra l'altro in una posizione cioè è tipo qui la vena Ramona ti donano tantissimo gli occhiali sono molto belli grazie guarda aspettavo il tuo complimento l'ho messi apposta hai visto? hai visto? ma perché devi dire queste cazzate? Mario ma vaffanculo eh per esempio ascolta oh oh senti senti sì sì ma è capitato di dover flertare con un uomo quindi essere tu la corteggiatrice sì puoi puoi dirmi se ti va no Simone no no è un metodo un metodo voglio capire un attimo qual è il tuo metodo di di corteggiamento per per raggiungere i tuoi obiettivi sei dolce o diretta? non fare questa domanda rispondi la mia comunque dipende cioè tipo col mio attuale ragazzo è andato esattamente così siamo usciti a bere siamo tornati abbiamo dormito tutti da un mio amico io mi sono letteralmente buttata di fianco a lui a letto e non abbiamo fatto niente però è da lì tutti insieme mi sono messa vicino a lui eravamo anche piccoli e per conoscersi così non è che a me dice vabbè pomo però ho fatto io e come fai Hontas Alessia scusami come fai Alessia ad accendere tutte le volte il fuoco della passione dopo così tanti anni di fidanzamento qual è il trucco che utilizzi per bello che dice l'avatar che dice sì mi piace qual è qual è la tecnica che consigli magari anche ai nostri amici a casa per per avvivare un rapporto vorrei evitare in questo momento ok allora sei in una festa e c'è questo ragazzo che ti piace da morire tu sei più spinta ad approcciare per prima o aspetti un attimo che lui ma allora aspetto un attimo se però proprio vedo che lui non si muove a me piace sta finendo il tempo faccio io e come approcci come approcci tipo vai lì e dici cosa tipo ehi no non lo so cioè ci parlo non è che dico ehi ciao e tipo non lo so cioè qual è la frase per rompere il ghiaccio facciamo finta facciamo finta io sono un ragazzo che sta lì sto bevendo da solo sto facendo i cazzi miei e tu vuoi corteggiarmi certo raga non lo so non l'ho mai fatto sinceramente corteggiami corteggiami sono qui sto bevendo adesso posso provare io per fare un tasso per fare un esempio ciao 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 fate le coglione vabbè ha sbagliato prova tu non lo so io ti offrirei qualcosa da bere oh iniziamo bene posso riprovare iniziamo così riprovo dai ok ciao Simo ti seguo sempre vuoi una birra no ok ha sbagliato vabbè certo che ti seguo sempre io non lo direi ha sbagliato cos'è mi fa intendere che vuole scopare no non l'ha detto riprova Dario riprovo oh Simo te lo voglio mettere al culo a posso andiamo Ale molto semplice questa è la questa è la la spiegazione pratica che sta alla base del rapporto quando siete espliciti con chi volete la situazione va sempre nel binario giusto relazioni del mondo risolte dopo questa live sicuramente bene grazie Hontas comunque della tua collaborazione grazie mille apprezzo l'approccio comunque eliminato diretto ehi ti va di fare sesso è così ecco questa è la versione un po' più soft però con Simone bisogna andare no è live ragazze ciao mi ecciti tantissimo mi attrai il tuo corpo mi attrai sessualmente vogliamo svolgere un rapporto sessuale però te fai troppo il grosso te non sei così te non sei così allora a me nel passato mi è capitato tu faresti così? io ti dico io ti dico alcune volte quando magari ero lì a a fare il pescatore chiamiamo così il pescatore ah ok ero lì che dovevo stavo cercando del lavoro i provini e io sui star me ne dico semplicemente ciao marapi ah così marapi tutto attaccato ma marapi non avevo mica 10 manco io ero lì che aspettavo tipo c'è una storia con lezzini scrivo bellezine e poi funzionava ti riscrivevano eh boh io così no però ad esempio cioè su 10 persone Simone su 10 persone quante volte funzionava 10 no anche perché te ora ti vuoi raccontare così ma ti hai postato anche delle storie dove in realtà sei stato molto romantico sei romantico hai scelto un approccio più soft più infatti l'approccio con Giulia è stato la sincerità la spontaneità proprio dove io e lei ci vedevamo sempre in questi locali ma io non andavo mai a salutarla e poi quando lei mi scrisse su Instagram e io gli ho detto sinceramente guarda non avvicino perché sono timido non so rapportare faccio tanto il duro ma non so rapportare a me con le ragazze però ti ha scritto lei hai scritto anche perché sei una fregna ma io ho scritto una cosa leggera poi sei una fregna mi metti in imbarazzo quando mi avvicino e questa cosa l'ha colpita vedo sei una troppo fregna a me piaceva invece Simone quell'approccio un po' più un po' più lo so ma non lo so cioè so che ti interesso io so che mi interessi e gioco un po' con te cioè tipo metto la mano dentro all'acquario dei piragna no magari mi mordi la mano però magari invece no sguazzi insieme a me ecco a me piaceva molto ecco con Agnese sono andato avanti così per un paio di mesi è stato molto molto eccitante molto fico guarda io vi do un consiglio a tutti quanti sentiamo un piccolo trucchetto simpatico per rompere il ghiaccio ok e far porre una domanda all'interessato quale domanda tipo fai una domanda no per esempio vuoi scrivere a una persona che ti piace vi conoscete così e tu non è che gli scrivi ciao non gli scrivi ciao come stai no gli mandi una foto di un lavandino guarda queste tecniche le usava Diego la maggior parte delle volte lo mandavano affanculo però no no a me funziona rimane una foto di un lavandino con in png un albero a fianco e Diego chi Diego nasce no te non gli rispondi non gli rispondi mai e lì dentro nasce nasce il seme del virus è stressante Diego te l'avevi fatto in printing te usavi un po' queste tecniche su Tinder Diego un pochino dai hai tempo cioè facendo simpaticone no io scuzzicavo sì però sono stato bloccato sbagliate volte vabbè ma io su Tinder ho fatto tutto un profilo con foto brutte non metto foto belle oddio sì qualche volta sì però però hai visto c'hai conosciuto Federica sì è stata una botta di culo però insomma vabbè sì un po' di culo serve sempre io ne conosco un sacco di coppie formate grazie a Tinder davvero? sì 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 anch'io molti miei amici si sono conosciuti grazie a Tinder ma nell'ultima negli ultimi anni gli ultimi due anni un sacco di amici è per la pandemia perché per la pandemia la gente lo usava per chiacchierare non lo usava per fare sexting e quindi era come se fosse come usare Facebook negli ultimi due anni quindi io non l'ho mai mai scaricato mai usato Tinder sì no nemmeno io ma neanche installata tra l'altro anch'io sì quella quarantena sì ma è uscita anche ma secondo me da adesso sta un po' cambiando l'idea di Tinder prima era veramente solo esclusivamente per scopare io con la pandemia ho avuto anche un sacco di bellissime conversazioni cioè ho conosciuto un sacco di gente ma ha anche fatto uscire un po' dal guscio perché già di base sono timida poi quella quarantena sono peggiorata ancora sei timida te? vabbè sì sì lo so che online non si nota ma io vengo sembra il vecchio del paese Dario sì sì un po' un po' toscano davanti al bar sì sì chi sei figliolo te? chi sei figliolo te? chi sei figliolo chi è tu babbo? chi sei figliolo del mocha oh il mocha ma con il cio ristorante lì ha uscito da Fifi lì sì un popolar opinion sentiamo Tinder è un ottimo social come mai? io io mi ci sono divertito tantissimo io con Tinder non ho mai non l'ho mai utilizzato per per scopare io ho parlato tantissimo su Tinder ma con tantissime persone e un sacco di gente è strafigo secondo me persone ma tipo all'altro l'ultimo per conoscere gente io l'unica volta che ho usato Tinder fu a Londra e incontrai un uomo un uomo che era italiano e che lavorava a Londra si chiamava Beppe e gestiva un pub uno speak easy dove praticamente vendeva pappagalli ma in realtà poi ok mi hai perso già a Londra comunque vai avanti ma quando si ce ne cazzate ma te ne rendi conto che fai delle facce come c'è fa tutte facce strane si capisce subito immediatamente però all'inizio un po' ci stavo credendo pensavo che non sa fare ma sai quando sgami sgami Dario non ti guarda negli occhi quando inizia a pensare la cazzata in live è difficile inizia a guardare la chat fissa la chat quando dice le stronzate che voglio la reazione perché mi fanno morire quando mi dicono ecco ci sentiamo la cazzata io io già vado fuori di testa capito vabbè che hai iniziato convinto aspetto il vostro consenso sì esatto il punto è che Dario parte credibile e poi ha un crescendo di sovranaturale perché è partito l'unica volta che ho usato tinda anche con le vocali allungate di uno che pensa vabbè ragazzi ma avete notto il cazzo ho avuto un quarto d'ora a dire una frase ma anche oggi ci sono diventati ho visto più parole grazie a Katakuri ieri tra l'altro Simone mi ha detto no ma mi ha spezzato qual'era la roba del binario non me la ricordo più Simone mi ha fatto morire veramente ma che ne so che parto con un binario che si evolve ah che tu c'hai tu c'hai dei binari predefiniti proprio c'hai dei binari che sono lo zio ah c'è gli attacchi sì 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 c'è gli attacchi e poi li evolve che ne so tipo fa no ma hai visto quel nuovo streamer Marco e lui fa ah sì lo conosco ma tra l'altro lui ha uno zio che e poi aggancia cioè coltiva coltiva melanzane oppure aggancia sempre più binari però sono sempre gli stessi all'incirca spesso i quali tiri lavorano nell'agricoltura fanno lavori manuali sì sì poi è sempre tutto senza glutine non capisco oppure è morto lo sai è morto è morto ieri è morto è morto ma lo conosco gli è morto gli è morto lo zio hai visto quello streamer è morto è morto ah ok c'è anche lo sai chi aspetta aspetta Vic l'altro giorno ero con curo lili curo lili crede a tutto ma tu sei uno strozzo crede a tutto allora io e Fossa l'abbiamo capito abbiamo iniziato a distruggere la di cazzate lei no ragazzi ma come allora c'era un bar un bar un'amburgeria si chiamava Chihuahua a Milano e lei fa Chihuahua e noi appena abbiamo trovato abbiamo sentito ah Chihuahua ah no no lì staci lontano però Sara no no non lo guarda nemmeno come perché Dario subito appende dalle mie labbra questo invece è il binario del casino è un casino è un casino è un casino questo è un casino enorme la malavita la malavita guarda lì perché c'è stato uno scandalo enorme non si sa nemmeno come faccia di rimanere aperto e Fossa appena sentita questa cazzata si è agganciata e fa no perché lì fanno i panini coi cani shorti no dai povera coi pezzi di cani shorti lei come come coi cani shorti sconvoltissimo stiamo scherzando lei ma vaffa culo ma io ci credo sempre 36 anni io ci credo curulia 36 anni mi pare 35 35 non hanno più di me porca troia ed è di Messina veramente di Messina no no ma povera no ma ci scherziamo Sara è la numero uno ma wow per me è la numero uno io devo fare una domanda che non c'entra in cazzo allora immaginate che voi avete ordinato una macchina a settembre no ancora la macchina siete arrivati a febbraio e il tizio che vi deve dare la macchina vi continua a dire che è in arrivo in arrivo in arrivo e ieri vi dice che la macchina è in barca e arriverà a Civitavecchia in questi giorni poi vi arriva la notizia che una barca che trasporta macchina ha preso fuoco e sono distrutte no 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 Diego Diego era le Porsche non hai preso una Porsche credo spero cioè so che so che ti va bene Twitch ma ora hai preso la Porsche no non hai preso la Porsche per Roma dai hai preso una Porsche no mi fai se hai preso la Porsche mi fai ca parate ce la faccio hai preso la Porsche si ti sapevo per il culo per il mattino che modello aspetta che modello di colore c'avemmo una vita sola ma posso godere ma che macchina hai preso sembra serio come se c'è una Hyundai 10 ma all'inizio non sapevo fosse di Porsche è una nave di Porsche ha preso fuoco nel mare lo so l'ho scoperto dopo ma all'inizio è sentito questa notizia se fosse uno scherzo hai su un tutto addirittura è diventato calabrese vi è mai capitata una roba del genere di attesa poi magari vi cazzate come i mostri che cazzo di situazione è che vuoi ridurre una macchina non della macchina ma ti cazzate per una roba che è stato aspettando da secoli e non arriva mai 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 poi sapete che c'è avuto anche un problema ancora peggio vabbè quello sì Alexei scrive c'è stato un servizio su striscia la notizia ora Alexei abbi pazienza ti fai a beccarsi melandi ragazzi ma queste Porsche hanno preso fuoco in mare ma chissà quanti disperati ci fiammano per uno nulla chissà quanti operai hanno sfruttato per comprarle per tutti chissà queste famiglie rovinate per quelle Porsche ho una domanda per le ragazze eccola vada vada dimmi allora avete mai avuto anche da bambine un hobby un'ossessione una cosa da passatemi il termine maschiaccio vabbè vogherita io devo rispondere vogherita è l'ultimo di mai porre le domande io da bambino giocavo con le bambole vestivo le bambole me ne casavano ok ci sto perché ti calbava guarda sotto ma le brazze le barbie poi ti casavano le brazze mi facevano paura è che si staccavano i piedi tutti cioè per voi si staccavano i piedi è vero perciò avete tuttora una cosa proprio da maschiaccio vabbè posso rispondere anche gli uomini per robe da sì però posso fare un attimo da maschiaccio sempre così da maschiaccio mi piaceva giocare a calcio con i miei vicini di casa ovviamente sempre no vabbè certo ormai tutto può cambiare perché ovviamente esatto e no mi piaceva giocare a calcio mi bastavo il tempo con i miei vicini di casa ovviamente noi non mettiamo pali su nessun genere io per esempio per cosa ma ci intendo anche sempre parlando fra le nuvole saltellando a piedi in punta dei piedi pochi ne so io me gratto me gratto alcune poi mi hanno sul dito mi piaceva come quando doveva cagare poi ti guardi guardi quello che hai fatto si ma le devi essere sicuri per più tecnici oddio che lida che ragione sì 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 perché non guardate c'è l'ho fatto scusa io lo posso scusa io c'ho un pass ma devi sapere se hai un problema o no devi controllare che sia sana ma che cazzo ma te si ma scusa ma te l'hai fatta l'hai fatta verde non lo sai cazzo ma va bene controllare la merda nel cesso ma addirittura con la torcia ma cazzo che sai della merda con la torcia scusa è tutto scuro come fai a vedere la torcia mi manca il museo ma sei fatto uno stronzio nero come la pece stai morendo come fai sovele sono la guardia vogelì scusami vogelì abbi pazienza non volevo creare un disastro è fatto un casino Simone io voglio essere sincero con te vogelita non mi guardo la merda da almeno cinque anni mi fa super schifo la merda anche a me va schifo se Marco facesse una singola cosa anche similare no forse adesso non lo dico questo perché deve venire il primo marzo qua da me non ha senso dirlo comunque no non mi piace la merda è una cosa che deve essere espulsa è dimenticata serio cioè te dare sei uno che scherza sulla sborra sul tupiscio la merda è off limits no non è che off limits l'ho fatta e l'ho utilizzata come materiale prezioso nei miei scherzi se non è necessario non la guardo e tipo in che casi la guardi nessuno cioè hai te quando ero ragazzino tipo quando la facevo davanti all'uscio di casa di un poveraccio la guardavo ma era lì era ci sta era uno scherzo hai letteralmente cacato di fronte a me in un parcheggio no c'è come sì Dario te lo scuro me lo ricordo no 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 ai tempi era ancora no 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 ai tempi era ancora astemio diceva di essere astemio era uno scherzo vabbè uno scherzo Nico Pettici dai questa sera ci ha regalato ho una domanda ma nemmeno non hanno finito nemmeno di risponde ah no non bene così ho una domanda una domanda un po' strana però prendetela come una domanda strana puro scopo scientifico proprio informazione scientifica allora noi ragazzi e parlo a nome di tutti ogni tanto facciamo dei giochi col nostro pisello cosa si intende che ne so stai per fare la pipì ti tappi la pellicina e ti fai gonfiare il pisello fino a farlo scoppiare grande classico no bellissimo che ne so il cavettone ma mia figlia esatto o robe del genere ora la mia domanda è ci sono dei giochi o delle cose simpatiche che si fanno con la fica cosa che ha per rispetto a quello che facciamo noi con il nostro pisello no te stai facciando queste domande super paracule solamente per soddisfare le tue perversioni e curiosità malate su hontas e mona shaw no no sto solamente chiedendo perché è una cosa che non ho mai chiesto a nessuno non è vero non ho mai chiesto cosa si fa io posso parlare dei mille giochi da fare col pisello che fanno i miei amici che hanno fatto però non so se le ragazze hanno un rapporto del genere col proprio membro lo so ma il cazzo ha già più mansioni c'è più lavori ci puoi fare la fica è giocoso è giocoso si 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 è difficile che ne so magari non ci sono mai appese due bollette sulla fica che hanno fatto e battito ma non credi che lo faccia male scusa vabbè ragazzi hai desplicato la vostra usazione il mio amici qualitario è bello no no se puoi rispondere un attimino beh no no io non ho mai fatto non l'ho mai giocato e poi secondo me con con il pisello chiamiamolo così per non essere volgari appunto ci si può fare molta più roba ma che stai dicendo che stai dicendo io se avessi la fica me nasconderei tutto nella fica metterei il telefono nella fica ma che è la borsa di di ernie ma poi che idea hai della fica non è il mio marsupio appunto ma guarda ma guarda ma guarda ma guarda ma guarda ma guarda è uno stupendo party trick però questo in effetti anche perché mi sto stancato di farlo solo col culo vorrei anche averci un'altra un'altra possibilità ok doppia borsa meglio di una si sempre no comunque la pittura google no no stai buona a te per piacere vogelita vogelita te quando si parla di piselli piscio merda te è meglio se si tascia il tempo non si sa mai comunque hai mai provato no guarda si parla di merda di piscio di freni a chi appare sembra eccessivo mi sembrava eccessivo ho sentito gli argomenti profondi tra l'altro in questo in questo attimo cioè si parlava della multifunzionalità del cazzo profondi erano profondi in effetti e della chica si estenderà un post va bene ontas addirittura annoiata con mano davanti alla bocca sbadigliata è che ho fatto maratona e quindi sono morta che maratona hai fatto? ho giocato tutto dalle 9 di stamattina io mi sono abbastanza warzone fortnite gta valorant adesso mi è arrivato del gatto e quindi inizio a fare penso di riportare anche zelda su zelda ti posso fare una domanda alessia no si è sballato l'occhio ok senti l'hai fatta la storia per zelda l'hanno mandato il gioco ti è arrivato l'hai fatta la storia per nintendo l'hai finito allora ti è arrivato l'hai giocato ma ti è arrivato quindi ti è arrivato ho fatto la storia hai fatto la storia per nintendo hai fatta la storia per nintendo vai dario continuo vai chiedi quello che vuoi chiedere vai ma secondo voi se vuoi mettere la spada di link dentro o la fregna di zelda così no ma non credo sembra eccessivo no vabbè è collegato al discorso di prima che ne so senti boberita eccoci qua dimmi devi scegliere ok tra i componenti questo pub ok una persona con la quale passare tutta la vita no 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 allora ragazzi io vi auguro la buonanotte vi ringrazio veramente di cuore di aver seguito il pub e adesso parteciperò un gioco farò di metroid fusion andiamo avanti e ringrazio simone panetti ringrazio nico perci ringrazio mona shon ringrazio vogelita ringrazio hontas ringrazio diegone di cantibus che ormai tanto è questo victor dark andros e poi chi c'è stato ragazzi chi c'è stato mario mario che è scomparso è scomparso è lasciato sconato ok ciccio e vabbè gianna e poi ringrazio basta basta così io ti ho ringraziato per primo e ovviamente simone e le sue varie incarnazioni di stasera grazie a tutti ragazzi siete stati tantissimi ciao ciao buonanotte a tutti buonanotte ciao 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 Ciao, ciao.